La sesta edizione del Red Valley, tanto attesa ogni estate, nel piazzale Roccerosse di Arbatax, considerata ormai una delle manifestazioni musicali più grande della Sardegna, a causa dell'emergenza coronavirus e del DPCM del 17 maggio 2020, non si potrà più svolgere, in quanto non è consentito creare assembramenti con più di mille partecipanti. Gli organizzatori però rassicurano che l'evento è solo rimandato per l'estate 2021, nelle date del 13, 14 e 15 agosto, nella stessa location e con la line-up già confermata. Infatti, tutti i biglietti già acquistati per quest'anno restano validi per l'anno prossimo, oppure possono essere convertiti in voucher. Verranno comunque contattati i titolari dei biglietti e degli abbonamenti nei prossimi giorni, per fornire ulteriori aggiornamenti ed informazioni per tutti gli step.